Dopo i primi anni di consolidamento a servizio anche dei settimanali, il SERE è diventato davvero uno strumento preziosissimo, secondo me con tre finalità. La prima era quella intanto di dare voce e visibilità all'attività pastorale ordinaria promossa e sostenuta dalla CEI, perché purtroppo il circolo mediatico mette in evidenza solo i grandi fatti, i grandi eventi o gli scandali o comunque gli scoop, invece c'è un vissuto che merita di essere comunicato. Il SERE ha svolto e svolge egregiamente questo primo servizio di dare voce alle realtà concrete, alla vita pastorale della Chiesa italiana e delle realtà diocesane. Il secondo è di essere a servizio dei settimanali o comunque delle realtà comunicative della Chiesa in Italia sotto diversi profili e con diversi strumenti aggiornati di volta in volta nel tempo e in fine una voce capace di stare nel grande scenario mediatico con un suo profilo e con un suo ruolo. Per gli studiosi e per i ricercatori sarà interessante vedere come con la nascita e lo sviluppo del SERE altre voci che non avevano altrettanta autorevolezza hanno perso peso e sono alcune sostanzialmente scomparse. Questo vuol dire che una comunicazione fatta bene, fatta con passione, fatta davvero come servizio, contribuisce enormemente anche alla vita pastorale. E questo è l'ultimo aspetto che vorrei sottolineare grazie al SERE, agli altri media, al progetto culturale. Nel 98, quando io iniziai il mio servizio all'ufficio, partì anche un grande progetto di rilancio della realtà mediatica della Chiesa italiana che ebbe come suo elemento fondativo gli orientamenti pastorali del decennio, primo decennio del 2000, che portavano il titolo proprio comunicare il Vangelo in un mondo che cambia. Quel comunicare ha un peso specifico, molto forte, perché nel decennio iniziarono a svilupparsi dei progetti non solo riguardanti media ma anche la pastorale ordinaria delle nostre Chiese. In particolare ricordo due eventi che restano nella storia della Chiesa italiana e che costituiscono il presupposto di altri percorsi che si sono poi sviluppati in seguito. Il primo incontro di tutti gli operatori delle comunicazioni sociali in un convegno parabole mediatiche che vede ritrovarsi oltre agli incaricati responsabili dei media anche proprio tutti gli operatori. Ci ritroviamo in 10.000 in Aula Nervi con l'allora cardinale Ratzin, invece un discorso magistrale. E poi il direttorio sulle comunicazioni sociali che esprimeva questo desiderio di fare delle comunicazioni sociali una dimensione ordinaria della pastorale della Chiesa italiana. Ed era un documento nato dalla Commissione, nato nell'ambito dell'ufficio, che i vescovi stessi vogliono invece proprio nella formula del direttorio, cioè di uno strumento in qualche modo vincolante e orientativo per tutto il cammino della Chiesa. Quindi il SIR ha svolto in questi decenni un ruolo strategico sotto diversi profili, dando uno straordinario contributo, promuovendo anche molte professionalità e offrendo credo un esempio anche per quello che deve essere la comunicazione nella Chiesa a servizio della comunità cristiana, ma anche per il bene della società e degli uomini del nostro tempo. Ecco, cosa possiamo augurare ora al SIR? Beh, è evidente che ci troviamo in un cambio di scenario. Ciò che è nato con la carta stampata oggi si trova a doversi misurare invece con il digitale, quindi con nuove tecnologie che come tutti sappiamo stanno cambiando radicalmente le modalità comunicative e quindi l'augurio che facciamo al SIR è di conservare sempre lo stesso spirito, gli stessi valori per cui è nato, ma nello stesso tempo di sapersi inserire a pieno titolo e in modo adeguato, direi anche con modalità innovative e profetiche, esemplari anche per tutto il comparto comunicativo della Chiesa, in questo nuovo scenario. Ce n'è particolarmente bisogno e credo che molte sono le attese anche per il SIR, quindi i migliori auguri e buon lavoro.